Verso la conclusione, l'attività di indagine relativa all'investimento verificatosi lungo la statale 158 a Colli a Volturno costato la vita al 48enne Paolo Marchesani. L'uomo nella serata del 1 novembre era stato travolto da un mezzo che non si era fermato a prestare soccorso. L'attività dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Isernia e della compagnia di Venafro aveva portato in tempi brevi all'individuazione di una moto a partire da un pezzo di plastica del faro e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza di una vicina area di servizio. Il motociclista, presunto responsabile dei fatti, ha deciso di contattare la procura insieme ad un legale per fornire la propria versione che a quanto pare sarebbe differente rispetto alla ricostruzione della dinamica ipotizzata dagli inquirenti. Questa mattina ha assegnato l'incarico per l'autopsia che si svolgerà nelle prossime ore presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso. Indagini al termine anche per il secondo investimento avvenuto sempre nella giornata del 1 novembre, questa volta a Venafro. Anche in questo caso il presunto autore del sinistro ha scelto di recarsi in caserma per rendere dichiarazioni spontanee. Siamo arrivati attraverso le indagini fatte dai carabinieri coordinate alla procura all'identificazione dei presunti responsabili dei due incidenti stradali sia quello con solo lesioni fortunatamente sia quello che ha determinato purtroppo la morte della vittima. Abbiamo sequestrato i mezzi, si passerà l'autopsia adesso per quanto riguarda l'investimento con il decesso e ovviamente le indagini si concludono perché al di là della presentazione spontanea degli indagati e quindi dei presunti responsabili sia nell'uno che nell'altro procedimento abbiamo il dovere e la necessità di completare il quadro probatorio dal nostro punto di vista per eventualmente arrivare al dibattimento. Entrambi gli incidenti sono caratterizzati da un dato in comune ovvero il mancato soccorso prestato alle persone investite. Un elemento ha spiegato il procuratore capo di Isernia Carlo Fucci per il quale la legislazione prevede sanzioni più severe. Ma lo stesso legislatore punisce più gravemente le lesioni stradali come l'omicidio stradale in caso di emissione di soccorso proprio per questa connotazione particolarmente negativa sicuramente anche dal punto di vista etico come lei può immaginare noi non facciamo una valutazione etica però i legislatori indubbiamente alla base di questo aggravamento di pena ha previsto, ha considerato anche questo.